Grazie Eugenio, buongiorno a tutti, vorrei, saluto il Presidente della Regione, tutti i sindaci, vorrei rassicurare i ragazzi delle scuole che fanno in tempo a prendere il treno e quindi sarò velocissimo e rapidissimo e vorrei anche rassicurarli sul fatto che tutte le cifre e le date date dal Gianni sono vere, perché all'inizio anche noi non ci credevamo, all'inizio quando Eugenio raccontava, ogni giorno era successo qualcosa nella storia di Firenze secondo Gianni, c'è fatto anche un libro, un almanaco con tutte le date precise, quindi sembra che siano tutte vere, per il momento non abbiamo prove che ce ne sia anche soltanto una inventata, molto brevemente ci tengo naturalmente a portare tutto l'affetto e il saluto del governo per questa iniziativa, la quindicesima edizione, il Presidente del Consiglio regionale Eugenio Gianni che ha recuperato un'iniziativa che da 15 anni viene fatta in Toscana per un giorno particolare, Riccardo Lencini fu il primo a lanciarla, poi il Presidente del Consiglio regionale Alberto Monaci, il Presidente Martini, il Presidente Rossi, tutti loro va il mio saluto affettuoso, però vorrei anche essere molto operativo e breve nella considerazione che vorrei condividere con voi, sarà che quando uno torna a casa si sente anche meno bloccato dalle formalità e dalle etichette. Noi siamo, cari ragazze e cari ragazzi, in uno dei luoghi più belli di Firenze, siamo nel teatro della Pergola e il teatro è per definizione un luogo di magia, un luogo di sogno. Pensate che qui c'era, e mi piace ricordarlo oggi perché uno dei più grandi, Edoardo De Filippo, debuttava sempre alla Pergola e mi piace ricordarlo oggi perché ricordiamo la scomparsa del figlio Luca De Filippo, anzi vorrei che tutti noi tributassimo un applauso a questo grande maestro il cui ultimo spettacolo era nel cartellone della Pergola di quest'anno. Ma il teatro è il luogo della magia, del sogno, è il luogo del fascino, è anche il luogo di occasioni perse. Qui pensate un po', specie quelli di voi che hanno il telefonino in mano, che in realtà fu inventato il telefono, non il cellulare, ma anche se a Tim Cook, il capo della Apple, gliel'ho detto, magari ci fa anche una sponsorizzazione, vedo Giorgetti qui dietro già come appollaiato pronto all'iniziativa, però in realtà se ci pensate il teatro fu il luogo nel quale Antonio Meucci che era un macchinista della Pergola inventò questa forma di comunicazione. Dunque il teatro come luogo di sogni, di magia, di bellezza. Noi abbiamo molto bisogno di bellezza, di cultura, di teatri oggi nel mondo. Lo so, Eugenio mi aveva chiesto, vieni a parlare delle riforme. Io ho 27 pagine dedicate alle riforme istituzionali, ve le lascio da parte, va bene se, insomma, tanto la sapete. Le riforme significa rendere il Paese più semplice e quello dobbiamo farlo, indipendentemente da qual è il colore politico che ciascuno può rappresentare. C'è bisogno di un Paese che sia più semplice e più giusto. Fare le riforme è una parola impolitichese. Rendere l'Italia più semplice e più giusto è quello che si può spiegare bene e quindi avere meno politici e più politiche e quindi avere più funzionamento della macchina amministrativa. Queste sono le riforme che servono. Ma Pietro Leopoldo di riforme ne ha fatte tante e quindi Eugenio mi aveva detto perché non fai un'analisi dall'agroalimentare? Pensate, è vero però, se ci pensate è molto bello, l'Accademia dei Giorgofili. Fino, perché no, alle questioni più economiche. Ora, Pietro Leopoldo, non me ne voglia Leonardo Bassili, che mi fece la prima Camera di Commercio. Io avevo pensato di fare l'ultima notoriamente per le mie posizioni sulla Camera di Commercio, ma non lo voglio dire di fronte al mio amico Bassili, che è tutti i presidenti di Camera di Commercio d'Italia. Diciamo che però Pietro Leopoldo è stato un grande riformatore. Ma dal momento dell'invito ad oggi è accaduto qualcosa che ha profondamente... ecco Leonardo, visto adesso. Dal momento dell'invito ad oggi quello che è avvenuto e che mi ha spinto particolarmente ad accettare, oltre all'affetto e all'amicizia, questo invito è che noi abbiamo bisogno, in questo momento storico del mondo e dell'Italia, di ricordarci chi siamo. Pietro Leopoldo è quello che abolisce la pena di morte per primo al mondo, che abolisce la tortura nell'interrogatorio. Oggi sembra normale. Pietro Leopoldo è dunque il primo che inserisce dei principi di giustizia, di equità, di umanità nel codice penale. Questo è il vero motivo per cui oggi fa festa la Toscana, fa festa tutta questa meravigliosa regione, ma fa festa anche l'Italia quando pensa a una cosa molto semplice. Dobbiamo tornare ad essere chi siamo sempre stati. Lo dico, per essere più esplicito, proprio dopo gli attentati del 13 novembre. È partito un messaggio, dopo il 13 novembre, innanzitutto di dolore, di vicinanza, di lacrime, ed è giusto che sia così. Ed è giusto che ciascuno di noi possa condividere i sentimenti di profonda, profonda tristezza per ciò che è avvenuto. Ed è stato bellissimo vedere a Venezia, durante il funerale di una giovane italiana nata in Italia e cresciuta in Europa, che era Valeria Solesin, l'emozione dell'intero Paese. Com'è stato bellissimo vedere quello che è accaduto ieri a Les Invalides nel momento del funerale del tributo alle vittime voluto dal presidente François Hollande. Ma accanto all'emozione e alla commozione poi ci vuole la ripartenza. I terroristi vogliono disintegrare il nostro modo di vivere. Noi dobbiamo rispondere con più teatri, con più cultura, con più ideali, esattamente con quei valori che Pietro Leopoldo mise alla base del suo intervento sulla procedura penale, ma che poi oggi vogliono dire in modo molto sintetico a tutti noi che non possiamo rassegnarci a vivere nella paura. Se accettiamo di perdere la libertà, ragazzi, diventiamo come loro. Se accettiamo di perdere la libertà e ci rannicchiamo nelle nostre preoccupazioni, non siamo più donne e uomini. Ecco perché è fondamentale, lo dico innanzitutto ai sindaci, che da primi cittadini, che in realtà sono gli ultimi cittadini, come sanno bene, sono i custodi delle paure, delle preoccupazioni, delle ansie dei propri concittadini. Diamo in questi giorni un messaggio forte di speranza. non vuol dire non avere le massime precauzioni. Nessun paese al mondo è sicuro. Quando un ragazzo arriva a costruirsi una cintura e a farsi saltare in aria, a mettere in gioco la propria esistenza, a accettare di perderla, è chiaro che siamo di fronte a un nemico molto pericoloso. Nessuno di noi può far finta di sottovalutare. Ed è per questo che tutti insieme stiamo cercando di avere regole ancora più puntuali, più efficaci. Ecco perché stiamo cercando di insistere sulla cyber security. Ecco perché stiamo cercando di valorizzare di più e meglio le nostre forze dell'ordine, il nostro contributo militare, il nostro contributo alla sicurezza. Tutte cose giustissime da fare, le facciamo. Ma accanto a questo c'è bisogno di una reazione delle nostre comunità. Noi non siamo delle donne e degli uomini rinchiusi dai muri. Noi siamo delle comunità. Voi sindaci siete i primi cittadini, gli ultimi cittadini, di comunità che hanno un'anima, che non stanno insieme soltanto perché ci sono dei codici fiscali o perché ci sono delle dichiarazioni di redditi da tenere insieme, ma perché hanno dei valori, delle passioni. Questo è ciò che vi viene chiesto oggi. Essere in prima linea nel portare alle nostre comunità, alle cittadine e ai cittadini, il senso profondo di ciò che l'Italia è. Una comunità fatta di valori e fatta di bellezza. Ecco perché per ogni centesimo che investiamo nella sicurezza investiamo un centesimo in cultura e in educazione. Ecco perché per ogni videocamera che mettiamo agli angoli delle strade ci deve essere un videomaker, ci deve essere un regista teatrale, ci deve essere un uomo che sperimenta nell'innovazione teatrale. Ecco perché a fronte di un investimento che viene fatto giusto, ogni euro investito in polizia, ci deve essere un'attenzione alle periferie, ci deve essere un'attenzione alla quotidianità, alla lotta contro il degrado. Ecco perché in Italia pensiamo che per ogni euro investito in iniziative militari occorre che ci sia un euro investito in iniziative educative e culturali. Questa è la specificità italiana. Questo è ciò che noi stiamo dicendo oggi. Questo è quello che vorrei che dicessimo tutti insieme senza distinzioni di partiti. Ci sono delle cose su cui è giusto distinguersi, litigare, far polemica e va bene. Poi ci sono delle cose su cui c'è l'Italia. Allora a me piace l'idea di prendere l'esempio delle riforme di Pietro Leopoldo non per raccontarvi adesso quali sono le nostre riforme, ma per chiedere a tutti voi, a tutte e a tutti, uno sforzo supplementare in questo momento. Chi ha ucciso? Ha ucciso dentro un ristorante, ha ucciso dentro un teatro e noi qui siamo in un teatro. Ha ucciso fuori da uno stadio, in dei luoghi che sono i luoghi della quotidianità. Non ha scelto un obiettivo militare, ha scelto il luogo di tutti i giorni. Perché? Perché vogliono distruggerci e se non ci riescono vogliono farci venire paura e impedirci di vivere. La risposta deve essere una e una sola. Firenze, la Toscana, l'Italia devono fare quello che sanno fare perfettamente e cioè essere capaci di investire su ciò che abbiamo di più bello e di più profondo. Siamo sì il paese della cultura, dell'arte, ma lo siamo perché? Perché c'è stato qualcuno che primo al mondo ha abolito la pena di morte. Perché il più grande valore che noi abbiamo non sta nel portafoglio, il più grande valore sta nel senso dell'identità di ciò che l'Italia è. E allora lo voglio dire pensando soprattutto ai ragazzi e chiudendo rapidamente. Ieri durante la cerimonia di Parigi a un certo punto hanno trovato giusto concludere con la musica di un grande italiano, di Giuseppe Verdi. È stato il Vapensiero. Perché vi voglio dire questa cosa? Magari non tutti voi siete particolarmente appassionati del Vapensiero, immagino. Ma perché voglio dirvi che è stato un gesto bellissimo? Perché la musica è quel valore universale, enorme, straordinario, questo teatro ne sa qualcosa, che parla al cuore dell'uomo. E sapete che cosa mi ha fatto paura andando su internet nei giorni scorsi? Non tanto e non solo le scene di violenza, ma delle scene in cui si vede un estremista, un predicatore folle, fanatico, che alleva terroristi, che insegna ai bambini della sua scuola a odiare la musica. Ecco perché è necessario investire in cultura. Ecco perché è fondamentale che accanto all'investimento nella sicurezza e nelle videocamere ci sia l'investimento nei teatri e nell'associazionismo culturale. Perché la cultura, la musica, il teatro, le emozioni profonde dell'uomo sono ciò che hanno fatto grande l'Italia e sono esattamente quello che vogliono distruggere. E noi non permetteremo a loro di avere una generazione che possa odiare la musica. È la stessa immagine che c'era in un film, l'ho citato in questi giorni perché dirlo a Firenze ha un valore per me ancora più forte, visto che si parla di calcio. C'è un film, Timbuktu, che è ambientato nel Mali, dove si vede un gruppo di ragazzi a cui gli estremisti hanno tolto anche il pallone, il calcio. C'è un campo da calcio, ci sono le reti, e non c'è il pallone. Perché hanno bandito il calcio. Capite dove arriva il desiderio di cancellare ciò che siamo? A portare via un pallone. E l'immagine meravigliosa di Timbuktu è di questi bambini, di questi ragazzi più che bambini, che si mettono a giocare a calcio senza pallone, fingono di avere un pallone. Si passano la palla. Qualcuno immagina di far rete. È il senso di una costante forza che ciascuno di noi ha dentro il proprio cuore, che è quello di continuare a vivere come dobbiamo vivere, senza vivere nella paura, senza cadere nella paura, senza rassegnarsi alla paura. La festa della Toscana di quest'anno dunque è la quindicesima di una regione che tutto il mondo invidia. È la quindicesima in un momento particolarissimo perché tanta gente vorrebbe che noi rinunciassimo a ciò che siamo. Io penso che sia bellissimo che si possa guardare la nostra storia, esserne orgogliosi, guardare anche gli aspetti negativi e cercare di far meglio, ma contemporaneamente poi aver voglia di futuro. E allora qui dal teatro della pergola io vorrei semplicemente che arrivasse un messaggio molto forte. Firenze, la Toscana, l'Italia, tutti insieme. Sappiamo che non è facile il tempo che stiamo vivendo, ma non è mai stato facile. Perché ragazzi, quando vi dicono c'è il terrorismo, ricordate che i vostri genitori il terrorismo lo hanno vissuto all'università. C'era un terrorismo che non era internazionale. So che può non sembrare, so che può sembrare strano per noi. I vostri genitori all'università vedevano scene drammatiche. Hanno avuto modo di vedere scene drammatiche, mica tutti i giorni. Però c'è stato un momento terribile nella storia dell'Italia. Il terrorismo interno. Si uccidevano giornalisti, si uccidevano politici, si uccidevano magistrati. Si rapivano personalità importanti del Paese. E la mia generazione, quando è andata all'università, alla fine del liceo all'università, ci è andata consegnata nel cuore, tatuata sulla pelle e dentro l'anima, l'immagine terribile di alcuni giudici che venivano fatti saltare in aria dal tritollo della mafia. E molti di noi si sono iscritti a giurisprudenza perché pensavamo che quello fosse il modo giusto per raccogliere l'eredità. Piccolini eravamo noi. Ma vedendo quei giudici, sicuramente Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, ma anche tanti altri magistrati, uomini della polizia, uomini dei carabinieri, della finanza, donne uomini uccisi da quello che veniva chiamato lo stragismo mafioso. Allora l'Italia queste vicende, queste pagine le ha già affrontate. Voglio dirvelo con forza, noi siamo un grande Paese e questa pagina di difficoltà che c'è in questo momento la affronteremo tutti insieme se saremo in grado di rafforzare le nostre radici. E voi che state in Toscana, voi che siete cresciuti in Toscana, avete una grande possibilità, delle radici molto solide. C'è quella di Pietro Leopoldo, c'è quella del teatro della Pergola, c'è quella della bellezza dei nostri vicoli e delle nostre strade. Promettiamo a noi stessi che saremo sempre all'altezza della cultura che questo Paese esprime. E allora la festa della Toscana sarà un modo per dire viva l'Italia, viva la libertà. Grazie. 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 Grazie.